Siamo a Bernate Ticino, sulla sala di Naviglio Grande, dove si è appena verificato un fatto gravissimo. Una donna con la sua bimba di sette mesi è finita nel Naviglio Grande. Sono usciti gli utupaggi della Croce Bianca, dell'elisoccorso, i carabinieri e la polizia locale di Bernate Ticino. Grazie per la visione!